e la carissimi estimatori ed amici dunque brevemente come vi sarete accorti ho ripreso finalmente a disegnare e con una novità in questo canale oltre che ai miei disegni e tutorial tecnici sia di matita in specifico di matita e sia di acquarello ecco sarà giunta una particolarissima playlist dedicata a quella che è un'altra mia passione che è il modellismo se signore modellismo col cartone però pensatemo spero sia di vostro interesse e che vi divertiate tantissimo come faccio io a presto ciao seguitemi